Ebbene si ragazzi, ho scoperto un programma gratuito per iniziare a creare videogiochi per Game Boy Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ho scoperto un programma fantastico per iniziare a creare videogiochi per Game Boy Che è come sapete adesso se uno volesse proprio realizzare un videogioco per questa console Che ragazzi, questa quando è uscita forse non ero neanche in Ato Ma io la principale console che ho avuto, la prima console che ho avuto è stato proprio il Game Boy Advance SP Quindi stiamo parlando già di tantissimi anni dopo rispetto al Game Boy e il Game Boy Color Se uno volesse creare un videogioco per Game Boy ad oggi cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe realizzare un videogioco in assembly, quindi in linguaggio macchina Che sì, ci permetterebbe di sfruttare tutte le performance della console Nintendo Ma è veramente difficile da studiare Niente impossibile volere potere, però ne vale la pena ad oggi studiare in assembly per fare un gioco per Game Boy Quando il mercato è completamente sparito Ditelo voi, penso di no Nel tempo è uscito anche un tool che programmando in C è possibile realizzare i videogiochi per Game Boy Mentre adesso è stato rilasciato proprio Game Boy Studio Un tool fighissimo che adesso vi faccio vedere Che si avvicina molto a Construct, il programma che noi utilizziamo per creare i videogiochi Che vi ricordo, io faccio questo di lavoro E in descrizione trovate anche i link ai videocorsi totalmente gratuiti Che se non sbaglio abbiamo quasi superato Ebbene sì, i 6.000 studenti Quindi ragazzi oggi vi faccio vedere proprio come creare un videogioco per Game Boy Non entrerò troppo nel dettaglio Vi lascio alla documentazione e soprattutto vi lascio allo studio, alla sperimentazione Perché non so se vale la pena fare un tutorial enorme ad oggi Che il mercato è praticamente assente Ma questa cosa mi eccita tantissimo, è fantastica E quindi niente ragazzi, vi voglio far vedere subito come funziona Game Boy Studio Eccoci qua all'interno della pagina del programma Che vi servirà per appunto iniziare a creare i videogiochi per Game Boy E ovviamente ad oggi non conviene dato che non esiste un mercato Né realizzare i tutorial o guide che entrano nel dettaglio E soprattutto né mettersi a creare un videogioco per Game Boy in assembly Forse lo si potrebbe fare soltanto per dire che abbiamo fatto un gioco per Game Boy nativo vero e proprio Ma GB Studio è un programma che è uscito da pochissimo tempo Che l'ho usato forse massimo un'ora, un'ora e mezza E volevo assolutamente parlarvene GB Studio è un programma per Windows Che però se voi cliccate su More Downloads Potete anche scaricare la versione per macOS e per Linux che appunto comprende sia Ubuntu che Fedora Quindi chiunque può utilizzarlo Ed è fantastico perché ci permetterà di creare i videogiochi per Game Boy Completamente partendo da zero E la cosa figa è che possiamo non solo esportarlo in HTML5 Quindi pubblicarlo poi su ITC E guardate la cosa figa che si può vedere anche in questo video Che adesso io vado a mutare l'audio Guardate un po' che cosa figa Se nel momento in cui lo esportiamo per mobile Si creerà anche appunto i comandi a schermo per poterlo giocare Quindi questa è una cosa veramente figa Quindi non dovremmo poi lavorare sull'interazione, sulla creazione dei comandi Perché sarà tutto responsive, tra virgolette Ma in più potremmo esportare il nostro videogioco proprio per Game Boy Ovviamente dovremmo prendere una flashcard vuota Non so neanche se adesso si trovano, forse sì E poi trovare proprio un sistema per metterlo Chissà, magari se questo video andrà bene Oggi vi spiegherò proprio come funziona questo programma Quindi per creare videogiochi per Game Boy Ma non entrerò nel dettaglio perché non c'è un mercato E vi ricordo che qui non dobbiamo scrivere codice Proprio come il programma che utilizzo io per lavorare, Construct3 Questo programma si avvicina molto a un sistema di no coding per creare videogiochi E vi ricordo che Construct3 è il programma che io utilizzo per lavorare E in descrizione trovate i link ai videocorsi totalmente gratuiti Per iniziare a creare videogiochi completamente partendo da zero Vi ricordo che io appunto creo videogiochi per lavoro E quindi Construct secondo me per iniziare è uno dei migliori tool proprio per creare videogiochi GB Studio vediamo subito come funziona Ci basta semplicemente cliccare sul bottone download for Windows Estrarre il pacchetto RAR Avviare l'applicazione ed ecco come si presenta il programma Ho semplicemente qui avviato un progetto già esistente Infatti ce n'è uno già esistente Quindi potete o caricare questo file Oppure semplicemente crearne uno vuoto E vi faccio subito proprio vedere come funziona Clicchiamo proprio sul bottone più in alto E guardate un po' queste sono le varie scene Abbiamo la scena principale ovvero il logo dove noi possiamo mettere il nostro logo La tile screen dove noi possiamo creare anche poi le impostazioni e così via O i crediti o altre cose Abbiamo outside che sarebbe la prima scena E tutte le altre varie scene Che adesso noi proveremo Ci basta infatti cliccare il bottone play che trovate in alto a destra Che ovviamente è dietro la mia telecamera che non lo vedete E inizierà a caricare proprio la scena Che infatti vi basterà aspettare soltanto qualche secondo Ed ecco qui che inizia proprio il caricamento di questo videogioco Ci basta semplicemente cliccare invio O il tasto Z che poi sarà Che corrisponde al tasto AB Del Game Boy E guardate un po' possiamo muoverci all'interno della scena Qui questo gatto l'ho messo io Adesso vi faccio vedere anche come funziona questo tool Quindi non vi preoccupate Se entriamo in questa stanza guardate che cosa figa Entriamo e quindi poi possiamo uscire Possiamo parlare con le persone Che possiamo subito vederlo Infatti ci basta cliccare Z Per avviare appunto il dialogo E' una cosa figa Qui loro gli sviluppatori ci hanno fatto vedere Un template di un gioco già composto Molto base Dove loro hanno fatto questo gioco dall'alto Stile Pokémon ovviamente Però credo che smalettando nel modo giusto Secondo me si potrebbe riuscire a creare un qualcosa Di veramente veramente figo Vediamo subito come funziona A sinistra come potete vedere Troviamo appunto Game World Qui possiamo vedere tutti i nostri livelli Che compongono il nostro gioco Ci possiamo cliccare su più Per aggiungere un actor Che sarebbe un personaggio Ma potrebbero anche essere queste cose qui Che state vedendo Quindi queste semplici non staccionate Queste semplici box Per leggere determinate cose Possiamo anche aggiungere un trigger I trigger ad esempio Vengono eseguiti nel momento in cui Noi ci siamo sopra Infatti qui lo sviluppatore Cos'ha fatto? Li ha utilizzati Li ha inseriti Proprio per fare Nel momento in cui Che quando noi siamo sulla porta Praticamente lui va in un'altra scena Infatti se noi vogliamo aggiungere un trigger Clicchiamo appunto su più Poi selezioniamo trigger E iniziamo a selezionarlo Ho spostato la telecamera Qui a sinistra In modo tale che potete vedere Anche a destra Come funziona il tutto Infatti nel momento in cui Ho inserito il trigger All'interno della scena E io gli clicco Posso aggiungere degli eventi Questi eventi verranno eseguiti Nel momento in cui Io ci sarò sopra Guardate un po' Posso anche aggiungere Le collisioni E posso aggiungere anche Altre scene Le collisioni ci servono appunto Per gestire Cosa il nostro personaggio Può toccare E cosa non può toccare In modo tale che poi Si ferma Quindi ci siano delle collisioni Ma guardate la cosa figa Possiamo vedere tutti gli sprite All'interno del nostro videogioco Abbiamo qui il cat Dog Duck Ice NPC001 E ovviamente per creare un'animazione Questo NPC a 3 frame Adesso vi faccio vedere Che ovviamente Ha dei limiti Perché se poi vogliamo Veramente far girare Questo videogioco Per Gameboy Ci sono dei limiti Veri e propri Non è come adesso Che sviluppare un videogioco Magari è un po' più semplice Perché ormai i dispositivi Hanno tantissima potenza Calcolo e così via Mentre una volta Non era assolutamente così Era stra difficile Bisognava veramente Ottimizzare tantissimo I videogiochi Che cosa figa Abbiamo tutti quindi I nostri sprites E cliccando in alto a sinistra Possiamo anche vedere I background Possiamo anche vedere L'UI elements Tutto quello quindi Che ci serve All'interno del User interface Quindi dell'interfaccia grafica Possiamo inserire delle musiche Ovviamente anche questi Hanno delle limitazioni Che adesso vi faccio vedere E poi troviamo anche Lo script review Che serve per gestire I dialoghi Un po' come su Construct Noi con il nostro gioco Dall'alto Che stiamo portando A poco a poco In live Che vi lascio il link Della playlist In descrizione Dove da lunedì a giovedì Ogni sera Mi potete trovare in live A lavorare a quel videogioco Cosa si può fare Ovviamente È un po' come se fosse Un piccolo Jason Ma ovviamente Stiamo parlando di 20 anni di differenza Quindi non si sapeva neanche Cosa era il Jason Effettivamente Ma non so adesso Come lo gestisce Il tutto Lo sviluppatore Poi possiamo anche Buildare e avviare L'applicazione Ma adesso ve la faccio vedere Torniamo nel Game World È una cosa che voglio Farvi assolutamente vedere È che andando Nella pagina ufficiale Appunto di GB Studio Quello che vi consiglio Se veramente volete Creare un videogioco Così per passione Per divertirvi Appunto Utilizzando questo tool Quindi un videogioco Per Game Boy Quello che vi consiglio È di andare a vedere Nei dettaglio La documentazione Che vi illustra Nei dettaglio Tutto quello che voi Dovete sapere Infatti Se noi clicchiamo Ad esempio su Installation Possiamo vedere Tutto quello Che dobbiamo fare Per installare Proprio la nostra applicazione Getting Starter Ci fa vedere L'interfaccia grafica Possiamo vedere anche Le scorciatoie da tastiera Per muoverci rapidamente All'interno del nostro programma Possiamo vedere Come salvare E caricare un progetto Possiamo vedere L'editor Come funziona E cosa ancora più figa Possiamo anche vedere Da qui Che le singole immagini Possono essere anche Modificate Infatti se io vado qui Vado su Game World Vado su Sprites E clicco su Edit Posso andare a Modificare Più che altro Mi viene salvata Questa immagine Poi posso andare a Modificarla E inserirla All'interno del gioco Ma la cosa stra Figa Guardate un po' Vedere come funziona Appunto Game Boy Studio Per vedere appunto Come è strutturato E posso andare a vedere Cosa ancora più importante Se vado su Docs E quindi vedere Tutta la documentazione Se vado su Assets Quello che mi spiega Qui il programma È proprio che Gli Sprites Devono avere Massimo 4 colori E il quarto È utilizzato Per lo sfondo In PNG Quindi per la trasparenza Ai tempi C'erano veramente Tantissimi limiti E essendo che il Game Boy Gestiva pochissimi colori Adesso non ricordo In particolare Quali erano Forse erano 8 I colori non ricordo Effettivamente Quindi non voglio dire Una ciafega Voglio magari lasciarvi Qualche link in descrizione Per entrare nel dettaglio Guardate un po' I nostri Sprites Quindi i nostri personaggi Devono avere Massimo 4 colori Esa decimali Però cosa molto più importante L'esa decimale 65FF00 Deve essere utilizzato Per creare la trasparenza E questa cosa è fantastica Per questo Su Game Boy Studio Tutti gli assets inseriti Hanno questo colore Appunto In trasparenza dietro Questo verde acceso Che serve per gestire Poi La trasparenza Ma cosa ancora più figa Guardate un po' Ci spiega anche Quanto deve essere grande Un singolo sprite 16x16 Se invece Ha un'animazione Composta da 3 frame Deve essere appunto 48x16 E così via Possiamo vedere anche In background Che gli sfondi Devono avere anche questi Massimo 4 colori E vi consiglio Di andare a leggere Dettagliatamente La documentazione E tutto Come funziona Ma andiamo un po' A sperimentare Vediamo quello che si può fare Come funzionano anche gli eventi Vi faccio vedere un po' Quello che ho fatto io Qui è creare uno zoom Ogni tanto si bugga Lo zoom Ma penso che questa sia La prima release Guardate un po' Io quello che ho fatto qui È inserire questo semplice gattino All'interno della scena E per farlo è veramente Molto semplice Ho cliccato su più Sono andato su actor Ho selezionato appunto Qui la mia immagine E in automatico Mi inserisce proprio il gatto Che io semplicemente Cliccando proprio su questa immagine Posso andare a cambiargli appunto La sua animazione O il suo frame Qui dice che è statico Perché c'è soltanto un frame Infatti io posso mettere Ice che sta per ghiaccio Ma se voglio posso mettere appunto Anche l'NPC001 Che anche qui ha diversi frame Che posso andare a gestire Con queste freccettine Opposto all'inizio Ovviamente vi consiglio Di leggere in dettaglio La documentazione anche per questo Voglio andare a inserire ad esempio Un cane Lo inserisco qui In questa scena E voglio fare che Nel momento in cui io gli clicco Succede qualcosa E infatti guardate un po' Mi basta semplicemente Aggiungere un evento E questo evento Verrà eseguito nel momento In cui io cliccherò A o B Sul cane che ho appena aggiunto Infatti faccio aggiungi evento Guardate quello che posso fare Posso gestire un bel po' di eventi Posso ad esempio Avviare la musica Nel momento in cui io gli clicco Oppure semplicemente Farlo scomparire Così Quindi faccio Hide actor L'attore che voglio far scomparire È lui stesso Quindi vado a mettere Qui mi chiede Ma quale attore Vuoi fare scomparire E ovviamente Non c'è nessun cane Questo perché Se io clicco sul mio cane Il nome che abbiamo impostato È actor one In automatico Io vado a mettere dog Guardate un po' Nel momento in cui io clicco Vado a mettere Hide actor Nel momento in cui Lo sto toccando E dico dog Guardate un po' Io adesso faccio play E guardate che figata Nel momento in cui io vado a Cliccare col tasto z Della mia tastiera Sul cane Lui proprio va via Infatti guardate un po' Adesso ci andiamo Non sul gatto Sul cane Clicco il tasto z Adesso posso anche avvicinarmi Clicco il tasto z Guardate un po' Lui va via È una figata Possiamo lavorare davvero A tantissime cose Possiamo andare a studiare Tutto quello che è stato creato Dagli sviluppatori Per metterci questo gioco Questo piccolo mock up Qui è stato fatto ad esempio Che se noi clicchiamo Su questo sasso gigante Quello che succede È uno switch scene Quindi c'è Un cambio di scena In quale scena dobbiamo farlo andare Il nostro giocatore Guardate un po' Lo possiamo vedere Nell'underground Infatti proviamo a vedere Se è veramente così Perché se io clicco qui Guardate un po' C'è scritto switch scene Nell'underground Direzione del masso Ha messo sopra Ma io posso switchare Non cambia nulla Non cambia nulla Forse perché Ha questo singolo frame Clicchiamo play E vediamo se è effettivamente così Quindi quello che vi consiglio È di andare a leggere Tutto quello che è stato creato Quindi di basarsi Su questo modello Già creato E poi magari in futuro Altre persone creeranno Altri videogiochi Quindi sarà anche più semplice Magari studiare Dagli esempi degli altri Però la cosa bella Di questo tool È sperimentare Sperimentare Perché io che sono nato Nel 97 Sono nato in particolare Ecco qui Mi è bastato semplicemente Toccarlo Perché se non erro Ecco qui Lo sviluppatore Non aveva messo Che dovevi toccare Ma aveva messo Proprio un trigger Infatti se io clicco Questo qua è un trigger Quindi cosa succede Il trigger viene eseguito Quando noi ci siamo sopra Infatti ci è bastato Soltanto andare sopra Questo trigger Che si è avviato il muscle Questa cosa è una figata Qui ad esempio È stata fatta un'altra cosa Qui è stata fatta Che se noi siamo davanti Alla porta Quello che deve succedere Qui possiamo poi mettere Il punto di spawn Quando noi torniamo indietro O quando noi appunto Andiamo nella porta Ad esempio noi vogliamo Che quando entriamo nella porta Questo qui che vi ricordo È un trigger Che noi possiamo spostare Ad esempio spostiamolo Per farvi capire un po' Come funziona Mettiamolo qui Noi adesso appena Andremo davanti al gatto Ci sposteremo all'interno Della casa Volete vedere Adesso vi faccio vedere Che proprio funziona In questo modo Vi ricordo che il trigger A differenza degli eventi Verranno eseguiti Nel momento in cui Noi ci andiamo sopra Tutte queste informazioni Le potete leggere Nella documentazione Che anche quella Ve la lascio in descrizione Guardate un po' Io vado attorno al gatto Non succede niente Appena entro qui Entra nella casa Quindi si possono mettere Anche piccoli easter egg Cose di questo genere È una figata Se vogliamo aggiungere Un'altra scena All'interno del nostro progetto Del nostro livello Ci basta semplicemente Cliccare su più Fare aggiungi scena L'aggiungiamo qui dentro E qui in automatico GB Studio ci va a dire Ecco la scena che abbiamo inserito In automatico La scena 8 Che però noi poi possiamo Andare a cambiarla Appunto su background E mettere uno dei background Che abbiamo inserito Infatti se vogliamo vedere Il background che abbiamo Proprio inserito Dobbiamo andare su Backgrounds Ed ecco qui che troviamo Tutti i background E possiamo appunto Inserire altri tipo di sfondi È una figata Vi ricordo sempre Che quando voi Inserite uno sfondo All'interno del gioco Dovete poi gestire Tutte le collisioni Vi ricordo Qui ad esempio Tutte le collisioni Sono state gestite manualmente Quindi lui ha cliccato Sull'icona Che adesso ha appena cliccato Questa qui Collisioni Che potete anche Schiacciare con C E guardate un po' Gestire tutte le varie collisioni Nella casa ad esempio Quello che è stato fatto Se io adesso zoom È che le collisioni Sono state inserite Proprio in questo punto In modo tale che Quando l'utente È sopra la porta Quindi proprio che dà Quell'effetto di entrata Quello che deve succedere È entrare E guardate un po' Quello che possiamo gestire anche Qui c'è un cambio di scena E possiamo mettere anche Il fade speed Spade 1 è faster Speed 6 è praticamente slower Proviamolo Clicchiamo play Abbiamo messo quindi Che quando andiamo Davanti alla porta Per entrare nella casa Quello che deve succedere È che ci deve essere Un'animazione Che andiamo Da una scena all'altra E deve essere fatta Molto molto piano Veramente ragazzi Ci sono tantissimi eventi Io credo che si possono fare Anche videogiochi diversi Da videogiochi che si avvicinano A Pokémon Ne sono molto curioso Guardate un po' Adesso l'animazione Sarà molto molto lenta E in questo momento Possiamo anche avviare Una musica Musica che Guardate un po' Ancora non si sente Perché adesso vi faccio vedere Dove invece si sente Infatti guardate Se adesso faccio uno zoom out Quello che ha fatto lo sviluppatore È stato fatto che Quando lui entra Nella cave Quindi nella stanza principale Ovvero questa qui Vediamo se riusciamo A far avviare una musica Quindi proviamo Facciamo anzi che quando parliamo Con questa persona Che guardate un po' Se io gli clicco Lui Attore Acture Ha uno script Che se la variabile è true Ovvero se sindac è true E qui con il discorso variabili Credo che non si possono creare da zero Ma il programma Ha un limite di variabili Che sono tutte queste qui Che noi poi possiamo rinominare Possiamo fare ad esempio Che se noi clicchiamo Su questa segnaletica Chiamiamola così Quello che succede C'è scritto Welcome to studio E vogliamo anche avviare una musica Quindi facciamo ad esempio Aggiungi evento Facciamo music Quindi play music E quale musica dobbiamo avviare La musica template Che già l'aveva caricata Lo sviluppatore In questo progetto Che noi abbiamo Siamo partiti da un template Vi ricordo Non abbiamo fatto un progetto bianco Infatti se noi andiamo su music Abbiamo proprio questa musica Che sentite La possiamo appunto Utilizzare nel nostro videogioco Quindi andiamo su game words Guardate un po' Nel momento in cui clicco Su questa staccionata Quando esco e rientro da una scena Si bagga un po' lo zoom Ma è la prima versione rilasciata Da pochissimi giorni Guardate un po' Quello che deve succedere È che si deve avviare la musica In loop Andiamo a provarla Clicchiamo su play Per partire E vediamo un po' Quello che succede Vi consiglio di sperimentare Di sperimentare Perché è tutto nuovo C'è soltanto la documentazione Secondo me soltanto con l'esperienza Si possono imparare A fare giochi fighi Per divertimento E per non Vi ricordo che questi giochi Non solo possono essere esportati Per game boy Ma anche in html Ci basta infatti Cliccare vicino al nostro Cartellone Staccionata Segnaletica Cliccare il tasto z E guardate un po' Dovrebbe partire la canzone Era partita anche dalle mie casse Perché ho del volume Però funziona perfettamente Vi consiglio di sperimentare Veramente tanto Di capire bene Il funzionamento Anche delle variabili Ma credo che appunto C'è un limite massimo Di variabili Quindi quello che è stato fatto Dallo sviluppatore È che ha messo queste variabili Già tutte create Appunto che va Da 001 A Circa 400 511 Che poi non è quello Che dobbiamo fare semplicemente È andare a cliccare Su una variabile A fare rename E quindi andare a modificarla Ad esempio start E noi possiamo fare False o true Credo che le variabili Funzionano anche in questo modo Anche se Se non erro Ci sono anche altre tipologie Di variabili Che poi Sono numeriche 0 e 1 Perché possiamo incrementare Dei valori Perché vi ricordo Che tra gli eventi Possiamo fare tantissime cose Ad esempio Muovere Action Emote Bubble Possiamo A far apparire un testo Possiamo fare un'animazione Fade in e fade out Possiamo nascondere un attore Possiamo anche Hide overlay Possiamo pushare un attore Quindi spingerlo In qualche direzione Slide Until collision Quindi spostalo Fino a un punto Si possono fare Veramente tantissime cose E vi consiglio Ovviamente Di andare a sperimentare Vi consiglio Veramente tanto Di provarlo Certo Non c'è un mercato Quindi Forse non ha Proprio tantissimo Senso farlo Però possiamo anche Esportare il videogioco finale In html5 Quindi puoi Caricarlo sul nostro hosting Su itc E condividerlo con gli amici Ed è una cosa Veramente Veramente figa E se non erro All'interno di ogni scena Ci può essere un numero Massimo di eventi Qui ad esempio ci dice A che è il numero Di attori che possiamo avere Siamo 9 su 9 F invece Sono i numeri di frames Usati massimi E sono 14 su 25 Perché vi ricordo Ad esempio Che c'è il nostro personaggio Che a 4 frame Forse di più Ne ha 12 Mi pare Perché si muove In 4 direzioni E ovviamente C'è anche la camminata E t Se non erro Sta appunto A significare I trigger Che ne possiamo avere Un massimo di 9 Erano i limiti Di una volta Anche se penso Che forse Una volta I limiti Erano un po' minori Perché se programmavi In assembly Videogioco Potevi Sfruttare al meglio Proprio il potenziale Del dispositivo In quel caso Del gameboy Qui invece Stiamo utilizzando Un tool Che poi Non so se effettivamente Va a ottimizzare Alla grande Oppure no Però veramente Ragazzi E' fantastico Come avete potuto vedere Questo era Gameboy studio Un tool fantastico Per iniziare a creare Videogiochi per gameboy Io sono nato Proprio di pane E gameboy E guarda caso Proprio in questo periodo Ho comprato anche Le uova di pasqua Della kinder Che sono nintendo Quindi potete vedere Anche a mario kart Dietro Io spero che questo video Vi sia piaciuto E se vi piacerebbe vedere Non so Un tutorial più approfondito Una guida Una live O qualsiasi cosa Fatemelo sapere Non solo con un bel pollicione In su ma soprattutto Con un commento Qui sotto al video Se volete iniziare A creare videogiochi Sapete che in descrizione Trovate i link Se volete far parte Di una community Di sviluppatori Musicisti Grafici Che amano il mondo Dello sviluppo di videogiochi Vi consiglio di fare un salto Sul gruppo facebook Sviluppare i giochi E abbiamo raggiunto Quasi mille membri E niente ragazzi Io vi auguro Un buon sviluppo di videogiochi E ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao 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 Ciao